Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un altro spacchettamento di Pokémon, è la Tin di Raichu di Destino Sfuggente e due pacchetti di Sintonia Mentale. Questi sono extra. Questa Tin contiene quattro pacchetti di Destino Sfuggente, quindi due a testa, più la promo, questa qua di Raichu, e ovviamente la Tin. In questi due, raga, ho visto che si può trovare un monte di cose. Quindi speriamo di trovare un sacco di roba, anche perché questa Destino Sfuggente dovrebbe essere l'espansione dove si trova più roba, sicché si spera di trovare cose interessanti. E speriamo non vada a finire o me la volta scorsa, io alla fine non ho trovato nulla. Io l'ho sempre scuro. Comunque se non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. Ok raga, ecco la Tin. E questi due pacchetti extra. Questi li apriamo dopo, che dici? Prima si apre la Tin, vi facciamo vedere tutta la Tin. Destino Sfuggente, poi Sintonia Mentale, questi li mettiamo lì da una parte. Quindi andiamo ad aprire la Tin. Guardate qua che bellezza. Qua abbiamo la promo, poi decideremo ovviamente chi prende la promo, chi prende la Tin. Qua la promo... Sì, raga, lui ha preso la promo, io ho preso... Perché ho avuto troppo sculo con tutto il resto. Codice per voi, no, per noi. La promo, guardate, bellissima davvero. Bella, bella. Mettiamola intanto qua davanti. Queste cose dietro sono tutte cose tanto per fare sfondo. E poi abbiamo le bustine. Quattro bustine, ma è un po' difficile prenderle. Questi sono i quattro pacchetti. Te quali vuoi? Scelgo io, se no stavolta. Vai. È che io scelgo sempre male. Io prendo un Charizard e un Mewtwo. Ti va bene? Ti giuro avrei fatto la stessa scelta con gli stessi pacchetti. L'altra volta ha scelto lui, stavolta ha scelto io. Spero di trovare cose migliori. Comunque, raga, abbiamo anche le sleeve per mettere le promo. Infatti adesso ci mettiamo Raichu. Taran! Sono di Dragon. Sono di Dragon, po' perché siamo poveri. Però comunque sono, diciamo, provvisorie per adesso. Andiamo col primo pacchetto. Io parto con Mewtwo. Io parto con Zapdos Articum. Andiamo, speriamo stavolta di trovare qualcosa di buono. Io vi ricordo, il trick per Sole e Luna, da Sole e Luna in poi, è quattro carte. Cioè si leva, intanto il codice lo leviamo. Cioè si dice che vi regaliamo a noi. Vi regaliamo a noi. Allora, quattro carte. Un, due, tre e quattro. E le mettiamo davanti. Adesso aspetta a girare. Facciamo una cosa, un gioco. L'ho scoperto da 88 Zelda fan. No? Indoviniamo che energia c'è all'inizio. Secondo me c'è la buio. Io fuoco. Ok, abbiamo sbagliato, allora non si troverà nulla. Ah, che c'è la più vicina però. Vediamo. Graveler. Esilio di Giovanni. Farfetch. Palestra di plumbe opoli di Brock. Questa ce ne avrò tipo quattro. Psyduck. Stario. Pikachu. Giglipov. Magikarp. Ekans. Koffing. Joldud. Clefairy. Cubone, ragazzi. Io di Cubone ne ho trovati quattro l'altra volta. Raga, io c'ho la reverse. La reverse. Io anch'io la reverse. Jolteon. Tre. Vediamo. Tre, due. Aspetta. No, vaffanculo. Scusa. Clefable. Io golem. Come l'altra volta, raga. Sì, esatto. Speriamo nel secondo pacchetto. Quindi adesso secondo pacchetto. Sono me quello di Charizard. Stavolta bisogna trovare per forza qualcosa. Perché altrimenti mi arrabbio. Quello di Charizard. Allora, non guardi. No, l'ho aperto tutto anch'io malissimo. Vabbè, ormai non guardiamo. Allora, fai per noi. Per te. Che vi regaliamo a noi. Uno, due, tre, quattro. Uno, due. Comunque nello scorso video, nello scorso spacchettamento di Pokémon, un ragazzo mi ha scritto datemi i codici. Purtroppo ce li teniamo per noi, mi spiace. Per il momento. Ah, non ho fatto il gioco. Io lo ho fatto il gioco. Sì, quello dell'energia, insomma. Io questo ci avrei, Zecca. Jeans. Carmelio. Determinazione di Misty. Jigglypuff. Coffin. Caterpie. Clefair. Oh, io ho visto qualcosa. Sari. Ecco, ho fatto qualcosa. Forse è la reverse. Ekans. Jigglypuff. Charmander. Eh sì, era l'energia. Anche io, energia reverse. Poi? Tre, due, uno. Io non ho nulla. No, raga, no. Spacchettamento bruttissimo. Destinistruggente. Però ancora non è finita. Stavolta ci ha deluso un sacco. Ma abbiamo ancora due pacchetti di sintonia mentale. Marco. Quindi ci mancano questi due pacchetti. E stavolta scelgo da Rai. Quindi scelgo da Rai. Tanto ho avuto abbastanza sfiga. Posso averla ancora. Andiamo ad aprire questi due pacchetti. Lui l'ha già aperto. A me ci vuole ancora un po' più di tempo. Perché dietro c'era anche il prezzo. Tipo c'era un adesivo enorme del prezzo. Spero di riuscire a conservare la bustina abbastanza bene. Codice che? Non continuiamo. Oh, ce la farò. Ok. Codice. Leviamolo. Questo è sempre solo e l'una. Quindi sì, il trick è quattro. Ora cerchiamo di indovinare l'energia. Secondo me questa... Chi indovina un'energia troverà una carta bella. Speriamo. Questo è fuoco, secondo me. Secondo me è acqua. Io buio. Buono, buono, buono. L'avrei indovinata prima. Focolare Gigante. Vigoroth. Del Mis. Audino. Eracruz. Bidoff. Cosmog. Magmar. Non so se qua si può trovare le sciaglie. Cotonì, guarda che bellino questo artwork. A me piacciono un sacco questi artwork. Bello, fa un po' cagare, ma è anche bello. Questi tipo uncinetto, questi qua, no? Sì, sì, fa poco cagare. Grazie. Cotonì. Snorant. Snorant. Poi, ok, una reverse. Uh, poi con l'ultracreatura. Che cosa è vero, raga? Ultracreatura reverse. Poco bene. Ci state, Yanma. Vai. Andiamo sotto. No, io zero. Anche te. Drifblim. Ragazzi, che cagata di spacchettamento. Cioè, veramente, abbiamo fatto veramente schifo. Raga, abbiamo trovato carte veramente brutte, mi spiace. Però ci rifaremo col prossimo spacchettamento. Ci rifaremo col prossimo spacchettamento. Se ne volete altri like. Voi supportateci, raga. Esatto, supportateci. Perché così acquisiamo forza. Esatto, magari fortuna. O, mi raccomando, condividete con tutti. Se volete altri spacchettamenti. È importante. Almeno, anche gli altri vedono questi spacchettamenti. E ricordate, come al solito, di lasciare like. Iscrivetevi. I like ci porteranno fortuna. Iscrivetevi se non l'avete fatto. Se avete... Se mettete 20 like... Avremo fortuna. Molta più fortuna. Perché stavolta è andata veramente male. Più letti ci sono più fortuna. Nulla. Mi raccomando, commentate, condividete e tutto il resto. Un'altra volta. Ascoltate il mio nuovo singolo. Lo trovate... E poi, commentate, iscrivetevi. Un'altra volta, commentate, iscrivetevi. E passate dal profilo Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto. Fateci sapere, ovviamente, se volete altri spacchettamenti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, raga.